Quindi hai seguito tutti i consigli e ti sei studiato il viaggio dell'eroe a fondo, conosci benissimo tutte le tappe del viaggio dell'eroe, hai il poster di Christopher Vogler attaccato su tutte le pareti di casa, eppure a un certo punto non sai come procedere con la tua storia. Come mai? Forse perché il viaggio dell'eroe non basta. Io sono Andrea Viscusi e questo è Story Doctor, e qui sul mio canale parliamo di storie, di come funzionano, di come si progettano e di come si scrivono. E in questo video mi rimetto a parlare un po' dei modelli narrativi partendo da quello che è uno dei modelli di riferimento da decenni per chi scrive narrativa. Viene adottato principalmente come linea guida per gli sceneggiatori, è diventato famosissimo a partire da quando si è diffuso come memo all'interno della Disney, ma poi si è espanso un po' a tutto il settore, ma poi dopo essere stato preso come guida dagli sceneggiatori è passato anche nel campo della narrativa e oggi è largamente utilizzato e studiato anche da chi scrive appunto narrativa. E sto parlando del viaggio dell'eroe di Christopher Wohler. Ne ho già parlato, perché se guardate il video introduttivo in cui parlo dei modelli a cui mi riferisco per quando faccio le analisi della struttura narrativa, cito appunto questo e l'arco di trasformazione di Dara Marx e ne ho parlato appunto anche come uno dei modelli narrativi da cui partire per iniziare a studiare, uno dei modelli fondamentali. E quindi tutto bene, bellissimo, il viaggio dell'eroe utilissimo, però il viaggio dell'eroe ha dei limiti e appunto siccome potrebbe sembrare un po' contraddittorio che inizialmente dico ok, volete studiare? Partite a studiare da questo e ora arrivo a dire sì ok, l'avete studiato, non è servito a nulla. Attenzione, non sto dicendo quello, il viaggio dell'eroe è utilissimo, è fondamentale, è un primo ingresso a mio avviso in quello che è il mondo dell'analisi delle strutture narrative e dell'approccio alla progettazione con un modello di storia più o meno funzionante, però non sempre riesce a risolvere quelle che sono le esigenze degli scrittori quando stanno progettando una storia o quando stanno procedendo nel loro lavoro e si trovano un intoppo. E a volte neanche le esigenze degli editor quando devono lavorare sulle storie degli altri, quindi che si tratti di story editor o editor di narrativa o quello che è, a volte rifarsi soltanto al modello del viaggio dell'eroe mostra degli evidenti limiti, che sono cose che anche io in effetti ho riscontrato lavorando sui testi degli altri. Quindi ecco, specifichiamo che appunto non sto dicendo che il viaggio dell'eroe non funziona, non serve, ma che non basta, semplicemente questo. Ecco, se dobbiamo studiare modelli narrativi non limitiamoci al viaggio dell'eroe, perché ci potrebbero rimanere alcune lacune che in alcune situazioni si rivelano abbastanza difficili da superare. Ma a cosa mi riferisco? Allora, innanzitutto il modello del viaggio dell'eroe, non sto a rifare tutta la storia che c'è dietro, magari riguardatemi anche gli altri video in cui un pochino ne parlavo meglio, ma ce n'è che ci sono altre persone che ne parlano più e meglio di me, anche perché è appunto un modello che si usa diffusamente da almeno 40 anni, quindi si basa sui studi di antropologia culturale di Joseph Campbell, e è un modello che serviva inizialmente proprio come tracciato, come canovaccio, per scrivere in poche settimane una storia e mandarla in produzione all'interno di studi di produzione, appunto è partito all'interno della Disney e poi si è diffuso. Quindi ha un approccio molto operativo, ovvero la cosa è fatta così, funziona così, tu fai questi passaggi, è quasi come scrivere una storia for dummies, cioè una cosa di quel tipo lì, a livello diciamo quello più superficiale. Poi nelle varie edizioni che sono seguite, questa è una delle ultime, quella che ho io, Vogler comunque ha ampliato, approfondito, quindi nel senso non sto dicendo che sia di per sé un lavoro superficiale, però parte da un approccio di quel tipo lì, un approccio che è semplicemente di dire questo è quello che si riscontra e questo è il modo di ottenerlo. Quindi è un approccio, è un metodo diciamo empirico di andare a vedere quello che c'è nel mondo e di riprodurlo. Quando dico nel mondo intendo nelle storie che circolano e che mediamente funzionano. E quindi questa è una cosa diciamo ottima per chi deve appunto trovarsi, per chi è in quella situazione, deve sfangarla con una storia che gli serve tirare su e metterla in atto rapidamente. Però appunto se qualcuno vuole capire qualcosa di più del funzionamento di una storia o delle storie in generale, allora non sempre si riesce ad ottenere questo risultato. E a mio avviso questo è particolarmente evidente se cerchiamo di applicare il modello del viaggio dell'eroe su storie che non hanno tanto a che fare con quello che è un viaggio, ovviamente anche metaforico, però appunto un personaggio che si mette diciamo in una situazione diversa da quella a cui si trova di solito. Partendo dal presupposto che in qualunque storia c'è a un certo livello questo processo di un protagonista o più protagonisti che si trova in una situazione diversa da quella a cui sono abituati, perché ovviamente ci deve essere uno sconvolgimento dell'equilibrio, una serie di conflitti che si innestano e che si nutrono a vicenda e quindi quello lo ritroveremo sempre, meno male in qualunque tipo di storia. Però il viaggio dell'eroe va a lavorare soprattutto su quelle storie che hanno un approccio abbastanza, uno svolgimentamento abbastanza letterale di questa cosa, ovvero con l'avventura funziona benissimo, con il thriller funziona abbastanza. Se andiamo a scrivere qualcosa di più psicologico forse allora si comincia ad avere qualche difficoltà, anche perché appunto ci sono alcuni snodi del viaggio dell'eroe, alcune delle tappe di questo viaggio che non sempre sono applicabili per storie che non hanno quel funzionamento lì. Un esempio tipico è già il ruolo del mentore che è una delle prime tappe che Volker inserisce nella sua storia. Il mentore insomma non è un elemento essenziale, quindi ovviamente certo possiamo rimuoverlo perché non ci serve, però già questo ci mostra come il modello che Vogler ha costruito parte dal presupposto che noi stiamo scrivendo un tipo di storia con un personaggio che deve fare un po' un viaggio appunto di scoperta e di crescita accompagnato da qualcuno. E quindi questo già ci porta in alcune situazioni in cui non stiamo aderendo a questo modello e magari se ci affidiamo ciecamente a quella che è la guida del viaggio dell'eroe allora ci ritroviamo un po' spersi. Soprattutto appunto se poi cerchiamo di ritrovare alcuni momenti di quello che descrive il viaggio dell'eroe all'interno di una storia che non presenta questo tipo di svolgimento. Perché per esempio se io sto raccontando la storia non lo so di un avvocato che deve appunto portare avanti una sua causa contro le lobby potenti magari in questo caso allora non ho la prova centrale per esempio. Quindi quella che Vogler identifica come Lord Alia con appunto una forte prova centrale anche se in tutte le storie bene o male c'è un midpoint, non sempre, non necessariamente c'è questo confronto forte a quel punto. Molte storie invece hanno una progressione di conflitto che arriva fino magari alla fine del secondo atto. E questa cosa per esempio è una cosa che ho notato facendo l'analisi anche del romanzo di Dune che ho fatto qualche settimana fa anche lì non ho notato effettivamente questa fase di prova più resente cioè appunto midpoint ma non c'è quella che si potrebbe definire proprio una prova centrale per come la intende Vogler. Quindi questo è già un primo limite del viaggio dell'eroe un secondo limite che io in realtà già quando l'ho studiato la prima volta lo iniziavo a intravedere è che a mio avviso il viaggio dell'eroe è molto vago su quello che succede un po' nella seconda parte della storia cioè appunto dal midpoint in poi. Tutta la prima parte cioè ovvero il primo atto e la prima metà del secondo atto sono abbastanza diciamo definiti infatti mi ci trovo abbastanza bene con le tappe e la terminologia che utilizza in quella prima fase. Anche se già c'è quella tappa dei test lies and enemies quindi alleati, prove, nemici già quello è un po' vaga perché mi dice sì ci sono alleati, prove, nemici ma che cosa fanno? Cioè nel senso mi dice semplicemente che c'è qualcosa nella storia ma non mi dice che cosa devono fare quelle cose quindi già quello mi dava un po' questa sensazione. Ma superato il midpoint già vedendo il grafico la rappresentazione ora vediamo se la ritrovo si vede che il primo atto ecco ora non so se si vedrà da lì però insomma si vede che il primo atto è abbastanza fitto fino a qua e poi insomma perché di 12 tappe che individuo a 7 sono fino a qua e poi le altre 5 si spalvano su tutto il resto quindi già da questa rappresentazione un po' si intuisce questa cosa e in effetti è molto più vaga e molto più nebulosa l'azione che si deve sviluppare dal midpoint in poi perché Vogler individua la ricompensa il ritorno a casa ma anche qui abbiamo detto infatti se non abbiamo un personaggio che compie un viaggio anche appunto che non deve essere un viaggio davvero fisico può essere un viaggio metaforico ma comunque il ritorno a casa non sempre è applicabile perché appunto se facciamo l'esempio che stavo dicendo ora di un avvocato che deve combattere in tribunale che cos'è il ritorno a casa cioè nel senso magari se lo si può rientendere perché ha il suo ritorno sui principi iniziali ma magari la storia non parlava di questo quindi ecco già vediamo che inizia a scricchiare un po' questa impalcatura la risurrezione la risurrezione è un passaggio che beh non c'è sempre a meno che non ci sia appunto un confronto forte è vero che l'esperienza di morte in un certo modo deve esserci sempre alla fine del secondo atto però non è detto che poi si abbia una risurrezione io in molte delle analisi che trovo qui più che faccio qui sul canale che ho messo più che di risurrezione ho parlato di rededication quindi quando il personaggio diciamo trova la sua nuova motivazione però non è esattamente quello di cui parla Vogler poi abbiamo il ritorno con l'elisir anche questo l'elisir non sempre c'è nel senso l'avvocato che vince la causa non è che torna al suo villaggio con l'elisir ha ottenuto il suo obiettivo magari nel frattempo è cresciuto ha imparato qualcosa ma non è detto che lui stia portando con sé un elisir materiale o metaforico per sanare il suo popolo quindi ecco queste tappe nella seconda parte del viaggio dell'eroe a mio avviso sono piuttosto vaghe e ancora meno applicabili in storie che non siano quelle tipiche di appunto di un viaggio di un'avventura rispetto a quelle della prima parte mentre la prima parte quella del ovviamente l'incente scatenante la chiamata all'azione il fuso della chiamata il il mentore se ce lo vogliamo mettere l'attraversamento della soglia quelle sono tappe che bene o male si riescono a inserire in qualunque tipo di storia quelle della seconda parte dal midpoint in poi sono davvero tappe che se stiamo raccontando quel tipo di storia da cui è partito il viaggio dell'eroe allora funzionano altrimenti siamo insomma davvero nel nebuloso e io infatti mi sono trovato a lavorare su dei testi che avevano usato come modello il viaggio dell'eroe e che un po si perdevano dopo quella seconda parte che a un certo punto anche magari parlando con gli autori o le autrici che avevano lavorato su quei testi mi dicevano beh io qui però non ero sicuro tanto di cosa devo fare perché tipo il viaggio dell'eroe mi dice che ci deve essere il ritorno a casa ma il mio protagonista non è andato a nessuna parte oppure magari il ritorno a casa e ritorno a qualcosa non è non avviene lì ma è proprio il complimento finale della storia quindi è proprio l'ultimo quello che è che avviene nell'epilogo quindi non posso metterlo lì dove me lo dice lui quindi ecco secondo me il viaggio dell'eroe per quello che ho visto nella mia esperienza sia appunto nell'analisi che faccio sia per il lavoro che mi è capitato di fare a delle lacune soprattutto in questo in questa sezione quindi che cosa dobbiamo fare allora intanto il diciamo la regola aurea è quella di non utilizzare appunto soltanto il viaggio dell'eroe ma ad affidarsi anche ad altri modelli per esempio appunto io l'ho già detto altre volte ma lo ripeto quello dell'arco di trasformazione di daramarks a mio avviso è molto efficace e ci dà anche qualche idea in più per come mandare avanti la storia nelle parti successive al midpoint perché ad esempio daramarks parla di tutta una fase di caduta che secondo me appunto è efficacissima per descrivere quello che succede dopo il midpoint anche lì è interpretabile in vari modi però insomma ci dà già un'idea di quello che deve succedere dopo la fine perché non necessariamente io devo avere l'eroe che torna a casa con l'elisir magari non c'è nessuna casa a cui tornare non c'è nessun elisir da portare ma se io so che ci deve essere una caduta fino a un'esperienza di morte e poi un momento di trasformazione allora questo mi permette comunque di costruire una storia anche la storia dell'avvocato di cui stavo parlando prima che non ha fatto nessun viaggio e non ha nessun elisir da conquistare un passaggio però secondo me ulteriore e molto utile è quello di cercare ovviamente studiando su altri manuali magari applicandosi anche a fare questo tipo di analisi come quelle che faccio qui sul canale e andatevele a vedere perché insomma penso che possano essere esempi interessanti e andarsi a cercare non soltanto come nel senso quali sono i modi empirici in cui una storia funziona ma cercare di capire le ragioni per cui le cose funzionano in questo modo il nucleo del concetto dei modelli narrativi non è quello di imporre uno schema ma è quello di ricavare uno schema da quella che è un po' il modo naturale il modo fisiologico in cui concepiamo e diffondiamo le storie senza appunto andarsi a infilare in discorsi di antropologia culturale e queste cose qui c'è gente che ci ha studiato tutta la vita e lo lascia a loro però insomma appunto si sa ormai insomma abbastanza evidente che c'è un modello emergente nelle storie che è un po' quello appunto dei sostanzialmente dei tre atti quindi inizio svolgimento fine e tutto quello che c'è di conseguenza a questo quindi a mio avviso il viaggio dell'eroe quello che fa è dirti semplicemente qui succede questo, qui succede questo, qui succede questo però non ti spiega molto perché soprattutto nella sua concezione iniziale poi appunto nell'edizione successiva Voler fa degli approfondimenti però non arriva mai a farsi quelle domande che vanno oltre il livello del appunto ho guardato cento film in tutti e cento succede questa cosa in questo momento non arriva così mai a dire perché in cento storie succede sempre così perché se mi invento una storia mi viene da raccontarla un po' con queste modalità perché una barzelletta viene costruita come una storia quindi ecco questo sforzo Vogler non lo fa lo fa poco anche Dara Marx anche se lo fa già un po' di più io ci sono autori che ne parlano di più io ad esempio uno di quelli più utili che secondo me ci possono essere in questo senso per avere una comprensione un po' più approfondita del perché i modelli narrativi esistono e rispecchiano quello che c'è quindi non è che inventano un modello ma lo ricavano dalla realtà è Into the Woods dei John York e secondo me appunto fa un eccellente lavoro in questo senso in quello non tanto di spiegare come costruire la storia ma di spiegare perché la storia viene costruita in questo modo York parla principalmente di un modello in cinque atti io di solito parlo di quello in tre atti ma tanto sappiamo quella stessa cosa il numero di atti non è la cosa discriminante nel modo in cui si concepisce la storia perché allora se vogliamo fare un esempio per capire qual è la differenza in questi due approcci è che ora io quando faccio gli esempi mi viene in mente sempre cose matematiche per mia formazione però per dire appunto magari gli elementari ti insegnano le terne pitagoriche cioè quei numeri che se sono i lati del triangolo rettangolo da due lati puoi capire quell'altro tipo 3 4 5 5 12 13 8 15 17 se hai un cateto che è 3 o un cateto che è 4 o multipli allora l'ipotenusa sarà 5 o multiplo per la stessa quantità di 5 gli elementari ti dicono così e te lo capisci è vero funziona perché se ti applichi questa cosa è davvero sempre così ok gli elementari si è piccolino ti basta sapere questo io spero che gli elementari ancora lo insegnino perché io l'ho fatto tanti anni fa non so se i programmi ministeriali sono rimasti a insegnare le terne pitagoriche in quarta elementare comunque diciamo che sia così però poi quando diventi un po' più grandicello magari non ti basta sapere che cateto 3 cateto 4 e potenusa 5 ma potresti chiederti sì ma perché qual è la ragione per cui c'è questo e allora ti spiegano poi il teorema di Pitagora a un certo punto alle scuole medie e poi quando sei ancora un po' più grandicello ti spiegano la trigonometria e quella quando poi arrivi anche ad avere la propria definizione delle funzioni trigonometriche ti dà diciamo una spiegazione del perché quella cosa funziona in questo modo non soltanto appunto la visione dall'alto che ti dice empiricamente abbiamo rilevato che guardando 100 triangoli tutti i 100 triangoli fanno così quindi evidentemente questa è una cosa che funziona e in effetti funziona e la puoi usare a livello superficiale a livello empirico soltanto in quel modo e va benissimo poi facevano gli egizi ci sono tracce e gli egizi facevano i nodi sulle corde per misurare i lati dei triangoli rettangoli e effettivamente usavano 3, 4, 5 nodi e quindi lo sapevano ma non avevano dimostrato il teorema di Pitagora quindi loro lo utilizzavano in modo così empirico poi ci è voluto un po' più di tempo per arrivare a capire perché funzionava e qui faccio un ragionamento di questo tipo ovvero il viaggio dell'eroe funziona il viaggio dell'eroe dà degli utilissimi elementi per capire come costruire una storia come analizzarla diciamo in termini generali poi come ho detto ha alcune lacune se andiamo a vedere i tipi di storia che non corrispondono del tutto al modello da cui parte il viaggio dell'eroe altri tipi di modelli o altri studi come ad esempio appunto Into the Woods ci iniziano a suggerire perché funzionano in quel modo e secondo me è molto utile perché ci almeno per come funziono io poi magari non tutti ne hanno bisogno di farsi queste domande di rispondersi perché però personalmente io preferisco sempre capire il meccanismo che c'è dietro alle cose piuttosto che impararmi la formula a memoria quindi infatti anche tipo le tappe del viaggio dell'eroe non è che me ne ricordo tutte me ne sono dovute andare a riguardare però avendo studiato altre cose più o meno so qual è il significato di ogni movimento di ogni fase della storia e questo me lo dà anche appunto lo studio di altri modelli o di altri studi perché appunto Into the Woods non è un modello narrativo è soltanto appunto un saggio su quella che è la struttura narrativa e perché funziona in quel modo ce ne sono anche altri poi magari farò un video anche dedicato a questo tipo agli altri modelli o ai testi per approfondire questo argomento se la cosa vi interessa magari segnalatemelo nei commenti così faremo un video dedicato anche a questa cosa qui però ecco mi premeva evidenziare come limitarsi al viaggio dell'eroe può essere fuorviante perché ci può portare a concepire un solo tipo di storia ci può portare ad avere difficoltà soprattutto da metà della storia in poi perché il viaggio dell'eroe è molto vago e poco flessibile in quelle fasi e quindi cerchiamo se vogliamo appunto scrivere con l'aiuto dell'utilizzo di modelli narrativi allora non fermiamoci a studiare Vogler ma andiamo a studiare anche altri modelli altri approcci altri testi e magari appunto facciamo l'esercizio di utilizzare questi modelli anche per spiegare le cose che leggiamo i film che guardiamo e se non avete voglia di farlo lo trovate fatto qui su Story Doctor perché ci ho fatto i video io apposta ci spendo tipo 12 ore per farne uno quindi per cortesia andatevi a guardare altrimenti cosa ci stiamo a fare qua questo è tutto quindi per il video di oggi spero di non aver diciamo distrutto le speranze dei fan di Vogler che ci sono giustamente Vogler è fondamentale ma non è tutto e quindi insomma magari iniziamo anche a guardarci intorno e a non limitarci a un modello solo perché se appunto la critica che si fa un po' a modelli narrativi o almeno che alcune persone fanno non avendo capito che cosa sono è quello che se studi un modello allora poi tutte le storie sono uguali non è così ovviamente però se ci limitiamo a studiare un solo modello e cercare di forzare tutte le storie dentro quel modello allora effettivamente ci potrebbe trovare ad avere delle storie che si sente che non hanno la loro dimensione naturale quindi andiamo oltre il viaggio dell'eroe e ne riparleremo magari anche qui poi in un prossimo video vi ricordo di iscrivervi qui su Story Doctor poi qui sotto ci sono tutti i riferimenti così mi trovate anche sui social mi seguite mi likeate mi shareate e tutto quello che si fa per compiacere la SEO e io vi ringrazio per avermi seguito come sempre e ci vediamo qui su Story Doctor per avermi seguito e ci vediamo Grazie.